Mentre la variante Omicron fa balzare i contagi a più 80% in soli 7 giorni, ieri sera il Consiglio dei Ministri ha varato un'ulteriore stretta per i non vaccinati. Dal 10 gennaio sarà obbligatorio il Super Green Pass, dunque l'avvenuta immunizzazione per salire su tutti i mezzi di trasporto, autobus, metropolitane, aerei e treni. Sarà inoltre necessario avere almeno due dosi di siero o essere guariti dal Covid per andare al bar e al ristorante anche all'aperto. Per i Novax dunque una sorta lockdown di fatto alla tedesca, intesa raggiunta al tavolo del CDM anche su un'altra questione spinosa. Azzerata la quarantena per coloro i quali hanno già effettuato il booster o hanno ricevuto le due dosi da meno di quattro mesi, che ora vengono esonerati dall'obbligo di isolamento in caso di contatto stretto con un positivo. Nella seduta a fiume a Palazzo Chigi stabilite poi nuove disposizioni per i vaccinati positivi al virus, ma asintomatici. L'obbligo di restare a casa scende da 10 a 7 giorni. Resta tutto invariato per chi invece sviluppa la malattia, con febbre o altri sintomi, e per i Novax. Il prezzo delle mascherine FFP2, infine, sarà accalmirato attraverso apposite convenzioni con le farmacie.